cade quest'anno il cinquecentesimo della stesura del principe di Machiavelli e allora vorrei approfittarne per fare qualche considerazione che possa essere valida anche al di là delle celebrazioni molte ce ne sono state in quest'anno per questo cinquecentesimo qualche considerazione su quest'opera di Machiavelli ovviamente è su qualcosa che può trascendere l'opera di Machiavelli e arrivare fino ai giorni nostri arrivare fino ai giorni nostri, ecco proprio di questo vorrei parlare inizialmente però in che modo? ovvero quando si parla di un classico ci si divide sempre fra chi ne sottolinea l'obsolescenza e chi ne sottolinea l'attualità cioè chi sottolinea la distanza che ci separa da quel classico e chi sottolinea invece il suo persistere ancora a fianco a noi oggigiorno ecco quello che vorrei dire io per iniziare questa breve conversazione è che anziché parlare di obsolescenza o attualità quando abbiamo a che fare con un classico in questo caso con il principe di Machiavelli ma non solo con questo ovviamente sarebbe forse più conveniente porsi in un'altra prospettiva un'altra prospettiva che mi sembra sia ben illustrata da queste quattro righe che si trovano nell'articolo intitolato sull'attualità politica del principe di Machiavelli di Mario Reale pubblicato il primo febbraio 2013 su Micromega dove Reale scrive così non c'è attualità che non si costituisca entro la consapevolezza della distanza niente dei classici è trasferibile immediatamente nella realtà di oggi il filo di connessione è piuttosto costituito da quella che direi lezione ossia la possibilità di ricavare liberamente dai classici temi e motivi che in parte vanno oltre il tempo e possono più spesso in forma indiretta farci da guida ecco Reale qui parla di lezione io direi appunto che quello che possiamo ricavare da un classico quello che possiamo ricavare da un classico è una eredità che ci lega a quel classico quindi non possiamo dire che un'opera che è stata prodotta in circostanze storiche talvolta anche geografiche completamente diverse rispetto a quelle con le quali ci troviamo a che fare nella nostra vita sia attuale tuttavia dobbiamo anche constatare il fatto che in un certo modo, in un certo senso quell'opera persiste ancora accanto a noi e quindi questa persistenza non ne segna un'attualità ma ne segna una eredità ne segna un'eredità e si capisce che le cose stanno in questo modo semplicemente contestualizzando l'opera perché laddove la andiamo a contestualizzare emerge immediatamente la distanza che ci separa da quell'opera e dalle caratteristiche dicevo prima storiche, geografiche, culturali, sociali in generale anche io direi per quanto concerne la biografia dell'autore quindi tutta questa distanza che ci separa dall'opera stessa ad esempio se vogliamo parlare del principe di Machiavelli dobbiamo fare inevitabilmente anche un certo riferimento alla biografia di Machiavelli e quindi alla situazione politica in Italia durante il Rinascimento e quindi ad esempio al fatto che Machiavelli assunse la prima carica politica di prestigio nella Repubblica Fiorentina nel 1503 assumendo una carica che grosso modo con tutte le differenze del caso potremmo oggi considerare come la carica di ministro degli esteri poi quando nel 1512 arrivarono i medici a Firenze ovviamente lui in quanto aveva un incarico politico con la Repubblica venne destituito da quell'incarico e proprio qui si colloca la stesura del principe cioè nel 1513 ma probabilmente anche nei primi mesi del 1514 quando cioè Machiavelli scriveva a Lorenzo dei Medici quest'opera indirizzandola a lui appunto che non si sa poi neanche se l'abbia mai ricevuta tenuta tra le mani e letta per dimostrare a Lorenzo le sue abilità politiche ed essere così riabilitato all'interno della vita politica fiorentina riabilitazione che almeno a livello parziale arrivò perché nel 1520 Machiavelli ebbe di nuovo un incarico di un certo prestigio vagamente simile a quello che aveva in precedenza durante il periodo della Repubblica e la cosa paradossale è che quando nel 1527 tornò a discapito della famiglia Medici ritornò la Repubblica a Firenze lui che è stato sempre un autore repubblicano nonostante la stesura del principe ma rispetto al quale ho detto un momento fa quali sono state le contingenze e i motivi che lo hanno portato a scrivere quest'opera Machiavelli è stato sempre repubblicano e lo si vince molto più che dal principe per esempio dall'altra famosissima opera i discorsi sopra la prima decada di Tito Livio lui che è stato sempre repubblicano per essere stato riabilitato nella vita politica fiorentina all'interno del Principato dei Medici venne accusato dai suoi stessi ex amici repubblicani di essere un fiancheggiatore del Principato e per questo espulso nuovamente dalla vita politica fiorentina e peraltro pochi giorni dopo questo episodio questa seconda espulsione morirà questo per quanto riguarda in maniera estremamente superficiale le coordinate storiche relative anche alla vita di Machiavelli all'interno delle quali l'opera è nata ma anche se noi andiamo a vedere i contenuti dell'opera quindi se andiamo a contestualizzare l'opera anche nel suo profilo contenutistico oltre che storico vediamo che i temi di cui tratta sono temi rispetto ai quali c'è una notevole distanza rispetto al nostro presente per questo non possiamo parlare di attualità ad esempio si parla del fatto che sia più conveniente avere delle milizie mercenarie proprie o ausiliarie mercenarie cioè ovviamente a pagamento proprie che appartengono al Principato ausiliarie prestate da un altro Principato o se sia più conveniente e quali siano i pro e i contro di un Principato misto, ereditario acquisito con la forza voglio dire sono tutti argomenti che non hanno a che fare se non in maniera estremamente sfumata con il nostro presente quindi non possiamo parlare di attualità ma appunto di eredità quella che è reale leggevo prima quelle righe chiama lezione e io direi di chiamare eredità ma così come un classico va sempre contestualizzato nel momento in cui lo contestualizziamo vediamo che si scioglie la sua presunta attualità e invece emerge se c'è e nel caso di Machiavelli io sono convinto che ci sia e poi vedremo qual è emerge appunto la sua eredità dicevo così come quest'opera di contestualizzazione va fatta nei confronti del classico in sé va altrettanto fatta anche nei confronti della critica perché ora non ci avventuriamo all'interno della ampia articolata critica che c'è stata nei confronti del principe di Machiavelli ma è ovvio che se prendiamo in considerazione anche soltanto gli aspetti e i passaggi fondamentali di questa critica è ovvio che l'analisi che hanno fatto nella prima metà del secolo scorso e il lavoro di analisi che hanno fatto nella prima metà del secolo scorso Croce e Gramsci sul principe risente delle coordinate storiche geografiche, politiche e culturali di quella temperie e per questo si differenzia ad esempio da altre analisi che nella seconda metà del secolo scorso fecero ad esempio Isaia Berlin e Leo Strauss sempre a proposito del principe e che in tempi più recenti diciamo più o meno 20-15 anni fa in ambito anglosassone hanno condotto Quentin Skinner e John Pocock nei confronti sempre del principe voglio dire se la contestualizzazione è un'operazione che è da farsi nei confronti del classico per consegnarlo alla sua temperie culturale e così non parlare di attualità ma di eredità la contestualizzazione è altrettanto un'operazione da fare nei confronti della critica perché anche la critica così come il classico stesso anche la critica risente della temperie culturale dentro la quale la critica stessa nasce e si muove e questa operazione cioè contestualizzare anche la critica è importante non solo da un punto di vista filologico accademico che potrebbe sembrare un qualcosa di assai noioso ma è importante anche per capire meglio non solo il classico in sé l'opera in sé ma anche il mondo nel quale viviamo e che produce un certo tipo di critica perché questa opera di contestualizzazione della critica va fatta nei confronti di qualsiasi tipo di critica non solo nei confronti di quelle scientificamente accademicamente più rilevanti ad esempio quelle che citavo in precedenza ma anche nei confronti di quel particolare tipo di critica di quella critica sui generis che potremmo definire essere la vulgata e anche nei confronti della vulgata va operata una operazione di contestualizzazione perché la vulgata è quella che ci dice è quella che ci consegna un Machiavelli maestro del male maestro del cinismo colui che ha detto non l'ha mai detto ci arriveremo poi il fine giustifica i mezzi e così via e allora quest'opera di contestualizzazione va fatta anche nei confronti di questa critica sui generis che è la vulgata per vedere come e perché è potuta nascere questa leggenda in questo caso intorno a Machiavelli perché si tratta di una vera e propria leggenda quello che accennavo un istante fa cioè maestro del male del cinismo e così via il fine giustifica i mezzi è una vera e propria leggenda e vedere come sia potuta sorgere questa leggenda e per dirla in breve e per ricordare un altro studioso dell'argomento io concordo in questo caso con Gennaro Sasso che sostiene che questo tipo di visione di Machiavelli appunto maestro del male il fine giustifica i mezzi e via dicendo è una visione come Sasso la definisce gesuitica cioè che risente del punto di vista gesuitico riguardo l'interpretazione del mondo e quindi in questo caso anche di quest'opera che persiste nel corso della nostra storia da 500 anni e che appunto paradossalmente poi proprio nei confronti di un autore profondamente anticristiano fa leggere Machiavelli attraverso gli occhi di questa lettura gesuitica che distingue in maniera netta e radicale fra il bene e il male ciò che è giusto ciò che è sbagliato un principio positivo un principio negativo e quindi poi da qui nasce quel discorso che Machiavelli non ha mai fatto su il fine che sarebbe qualcosa di assolutamente positivo i mezzi qualcosa di assolutamente negativo e così via ma tutta questa prospettiva è assolutamente strana a Machiavelli e deriva appunto da questa lettura gesuitica che viene alla luce in tutta la sua scorrettezza filologica se noi come dicevo prima facciamo quest'opera di contestualizzazione non solo nei confronti del classico in questione ma anche nei confronti della critica e anche nei confronti di quella critica sui generis che è la vulgata dicevo quello che mi interessa mettere in evidenza in questo momento però è allora in cosa consista la eredità di Machiavelli ripeto l'eredità non l'attualità in cosa consista l'eredità di Machiavelli per vedere in cosa consiste la sua eredità e quindi il fatto che in qualche modo in qualche modo la presenza di Machiavelli persiste da 500 anni nella nostra storia con tutte le debite contestualizzazioni e anche tutt'oggi iniziamo almeno velocemente a vedere in cosa non consiste questa attualità per arrivare poi a vedere in cosa consiste innanzitutto non consiste nel fare di Machiavelli una sorta di scienziato politico Machiavelli non è uno scienziato politico perché per Machiavelli per una ragione semplicissima per Machiavelli la politica è qualcosa di dinamico non è qualcosa di statico che quindi è rinchiudibile all'interno di leggi ripetitive che si ripetono nel tempo e che descrivono una volta e per sempre una certa situazione la politica è un qualcosa di dinamico la politica coincide con la vita in toto per Machiavelli e è qualcosa che non ha a che fare soltanto con un aspetto razionale ma anche con un aspetto emotivo tant'è vero che nel Principe noi troviamo la metafora del centauro cioè di questa creatura che è in parte razionale in parte emozionale e il riferimento machiavelliano alla emozionalità del centauro sta a significare che nella vita quindi nella politica per Machiavelli c'è sempre una parte che sfugge a qualsiasi tipo di razionalizzazione e per questo non possiamo parlare di scienza politica tant'è vero che nell'ultimo capitolo del Principe indirizzato a Lorenzo De Medici lui scrive che è desideroso di mettere a disposizione di Lorenzo non la sua scienza ma la sua esperienza delle cose politiche la sua esperienza la sua conoscenza di come sono andate le cose nel passato e di come stanno andando nel presente che non è scienza cioè previsione in base a meccanismi ripetitivi del futuro non è neanche Machiavelli la cosa che spesso viene detta non è neanche colui che ha in qualche modo inaugurato tutto il filone teorico sulla ragione di stato o sulla sovranità cosa che invece compete ad Hobbes non assolutamente a Machiavelli perché la ragione di stato come dice la parola stessa rappresenta una forma di razionalità che è tipica di un soggetto preciso e particolare che è appunto lo stato e che in quanto tale si distingue da un'altra forma di razionalità che è quella propria del popolo quindi la ragione di stato rappresenta la razionalità dello stato gli interessi dello stato ciò che è utile allo stato i valori dello stato e in quanto tale è distinta dalla forma di razionalità che è propria di altri soggetti ad esempio del popolo non c'è assolutamente in Machiavelli questa distinzione questa distinzione tra una razionalità che sarebbe di pertinenza dello stato e una razionalità che sarebbe di pertinenza del popolo al contrario per Machiavelli deve esserci una sola forma di razionalità all'opera nella società in toto che unisca quindi il punto di vista delle istituzioni con il punto di vista del popolo tant'è vero che nel principe Machiavelli scrive più volte che invita il principe a guardare il mondo attraverso gli occhi del popolo e il popolo a guardare il mondo attraverso gli occhi del principe quindi Machiavelli è completamente al di fuori di questa tradizione della ragione di stato che invece compete ad Hobbes e se proprio volessimo fare dei paragoni ha dei punti in comune con Rousseau Machiavelli ma certamente non con Hobbes non è neanche infine Machiavelli non è neanche dicevo in precedenza colui che ha diviso nettamente il bene dal male quindi i fini dai mezzi questa è la lettura gesuitica colui che si è interessato al potere per il potere ma l'obiettivo polemico di Machiavelli e che poi è stato interpretato nella maniera che dicevo tipica della volgata per quello che è diventato il punto di vista dominante nella nostra società l'obiettivo polemico di Machiavelli sono quelle utopie che disegnando o meglio immaginando una situazione ideale bloccano e ipostatizzano la vita all'interno di quello scenario giudicato come ideale volendo poi che la realtà concreta vada a combaciare quanto più possibile con quello scenario ideale e quindi quello scenario ideale non solo blocca la vita all'interno di quella visione che viene ipostatizzata che quindi diventa una gabbia sullo svolgimento della vita concreta ma esercita quella visione utopica esercita anche una pressione autoritaria sulla realtà perché la realtà deve conformarsi a quello che viene giudicato essere una impostazione ideale quindi in realtà lo scopo di Machiavelli è quello di liberare la vita da gabbie utopiche che da un lato ipostatizzano la vita all'interno di quella visione e dall'altro esercitano una funzione autoritaria sulla vita stessa che dovrebbe andarsi a conformare a quella visione lo scopo è invece quello di costruire costruire la possibilità di vivere una vita degna di essere vissuta ma questa costruzione e qui arriviamo a vedere in cosa consiste invece l'eredità di Machiavelli ma questa costruzione per poter avvenire deve muoversi in senso esattamente contrario rispetto a come abitualmente si è mossa la teoria politica prima di Machiavelli per questo Machiavelli ha introdotto nella nostra storia culturale un paradigma assolutamente innovativo e rivoluzionario e per questo ha aperto una prospettiva una prospettiva anche forse traumatica che prima di Machiavelli non c'era perché prima di Machiavelli l'idea che troviamo ad esempio anche nell'etica nicomachea di Aristotele e poi soprattutto ovviamente nella visione cristiana applicata alle faccende politiche c'è questa visione che dicevo un istante fa di configurare una impostazione ideale e poi di volere che la realtà si adegui a questa visione ideale per Machiavelli le cose stanno esattamente al contrario stanno esattamente al contrario perché il punto da cui bisogna partire non è quello di una visione ideale alla quale la realtà dovrebbe conformarsi ma è quello di partire da quella che lui chiama la realtà effettuale cioè dal fatto semplice direi nudo e crudo di come stanno le cose come stanno le cose da lì muovere per poi indirizzare le cose in una maniera che riteniamo essere opportuna ma il punto di partenza non è come vorremmo che le cose stessero o qual è il nostro ideale utopico di divisione della società ma è partire da come stanno le cose che ci piacciono o meno tant'è che nel quindicesimo capitolo del principe è Machiavelli stesso che scrive sendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi la intende mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettuale della cosa che alla immaginazione di essa e perché questo modo di procedere che Machiavelli ha introdotto nella nostra storia culturale in questo consiste la rivoluzione portata da lui è così dirompente perché questo modo di procedere cioè quello che parte dalla realtà effettuale e poi dopo va alla ricerca di quello che c'è dietro di come vorremmo modificare la realtà e così via ma in tutti i casi si parte da come stanno le cose e da nient'altro ha anche a che fare questa visione ha anche a che fare con l'idea del tutto innovativa e dirompente che non c'è nulla che precede la fondazione del potere il potere si pone in un certo tempo e in un certo luogo e dopo essersi posto produce la sua legittimazione sotto forma di narrazione della propria genealogia ma questa narrazione è una narrazione che viene ovviamente proiettata nel passato ma non viene dal passato non viene dal passato viene dal presente perché è il potere che dopo dopo che si è posto produce le condizioni della propria legittimazione proiettandolo ovviamente nel passato ma sono prodotte nel presente dal potere dopo che si è posto in questo consiste questo punto di vista assolutamente innovativo e dirompente di Machiavelli e perché è così dirompente questo punto di vista machiavelliano ora ovviamente qui procediamo ad una grande sintesi di argomenti che meriterebbero di essere sviscerati in altro modo ma perché è così dirompente io credo che ci siano almeno due conseguenze che possiamo legare a questa prospettiva machiavelliana una in particolare e una più in generale forse quella più generale è anche più interessante perché ha più a che fare con la nostra vita di oggi ma partiamo da quella particolare che consiste nel operare una operazione di onestà intellettuale nei confronti di Machiavelli Machiavelli non ha mai detto lo dicevo in precedenza il fine giustifica i mezzi non l'ha mai scritto molto probabilmente non l'ha mai pensato perché innanzitutto perché questa è una prospettiva per dirla con le parole di sasso come dicevo prima gesuitica che è del tutto estraneo a Machiavelli ma poi perché c'è questo aspetto che dicevo un attimo fa cioè l'idea che nulla precede la fondazione del potere e che il potere produce la propria legittimazione solo dopo essersi posto quindi se proprio volessimo in qualche modo rielaborare questa frase che viene sempre attribuita a Machiavelli ma così non è dovremmo dire non assolutamente che il fine giustifica i mezzi non l'ha mai detto non l'ha mai scritto probabilmente non l'ha mai pensato ma potremmo dire che il fine produce i mezzi il fine produce i mezzi cioè il potere dopo che si è posto produce la propria legittimazione sotto forma di narrazione della propria genealogia questo per operare una operazione di semplice onestà intellettuale nei confronti di Machiavelli ma la conseguenza invece generale che secondo me è più interessante perché dicevo ha a che fare non solo con un discorso di tipo con un discorso di correttezza filologica in tutti i casi assolutamente da farsi ma ha a che fare anche e soprattutto con la nostra vita presente è una conseguenza generale ovvero una eredità come dicevo all'inizio di questa conversazione un'eredità che noi troviamo all'interno dell'opera di Machiavelli e che possiamo assumere su di noi seguendo i discorsi di Machiavelli e quindi raccogliendo la sua non attualità ma eredità o lezione per dirla con le parole di reale ovvero se è vero come dicevo poco fa che il potere produce la propria legittimazione dopo essersi posto e cioè che la narrazione sulla genealogia di un potere è sempre una narrazione ex post è una narrazione che viene prodotta nel presente e proiettata nel passato quindi se è vero che per dirla con le parole di Foucault che in questo caso è molto vicino a questa idea machiavelliana d'altra parte Foucault è stato fortemente influenzato da Nietzsche e sappiamo tutto il lavoro che Nietzsche ha fatto sulla questione della genealogia dicevo se per dirla con le parole di Foucault non è il passato che crea il presente ma è il presente che crea il passato allora questo significa che il compito di uno studioso ma non solo di uno studioso di qualsiasi persona per comprendere la realtà effettiva per dirla con le parole di Machiavelli all'interno della quale gli è capitato di vivere quindi raccogliendo questa eredità machiavelliana il compito che possiamo prendere in carico da Machiavelli come modalità per comprendere meglio la realtà effettiva all'interno della quale ci troviamo è invertire il presunto senso di percorrenza della genealogia all'interno della quale supponiamo di trovarci e quindi di non credere che esiste una linea genealogica che viene dal passato e che con una serie di eventi messi tutti in fila uno dietro l'altro produce la situazione nella quale siamo oggi ovviamente con questo non voglio dire che i fatti non esistono ma voglio dire che c'è sempre un margine di manovrabilità degli stessi e soprattutto c'è un grandissimo margine di interpretabilità degli stessi e il modo in cui li interpretiamo produce un certo tipo di mondo quindi invertire questo senso genealogico e dire che è dal presente che dobbiamo partire ad esempio nel caso di Machiavelli le strutture di potere con le quali ci troviamo a che fare sia su grande sia su piccola scala e ripercorrere poi a ritroso come un gambero quella che viene considerata essere la genealogia di queste strutture di potere e che altro non è che una narrazione che queste stesse strutture di potere producono dopo essersi poste esposte su loro stesse proiettandola nel passato e quindi ripercorrere a ritroso questa genealogia per cercare di capire facendo delle ipotesi e percorrendo quella che per noi è più convincente perché un certo tipo di potere produce un certo tipo di genealogia per autolegittimarsi proiettandola nel passato ma in realtà producendola nel suo presente e fare questa operazione è molto interessante perché io credo che si possa arrivare si possa arrivare a delle conseguenze estremamente interessanti e diverse da quelle alle quali siamo abituati ovvero si potrebbe arrivare a notare che delle strutture di potere che sembrano angelicate in realtà se noi ripercorriamo a ritroso questa questa genealogia che è sempre costruita ex post in realtà danno luogo ad una vita che è dimidiata mentre delle strutture di potere o delle idee che possono sembrare diaboliche ciniche malvagie negative se fossero percorse fino in fondo potrebbero dar vita ad una vita degna di essere vissuta e io credo che al di fuori della vulgata su Machiavelli questo possa essere un modo corretto di approcciare l'opera di Machiavelli cioè interpretarla come un'opera come un'opera il cui scopo non è certamente quello di prendere il potere per il potere o di dividere i mezzi dai fini il bene dal male e così via ma il cui scopo è quello di liberarci da utopie che bloccano la vita ed esercitano una pressione autoritaria sulle stesse e costruire un mondo degno di essere vissuto su Machiavelli infatti e con questo concludo ritengo che sia sempre interessante quella e valida quella riga di Gramsci che Gramsci scrive in note su Machiavelli nei quaderni dal carcere quando Gramsci scrive il principe stabilisce un ordine in cui sia possibile muoversi operare lavorare tranquillamente quindi tutt'altro che il Machiavelli demoniaco e maestro del male che la avulgata gesuitica invece ci consegna